Il sesto omicidio tra gli omosessuali negli ultimi due mesi e tutti impuniti Un cronista televisivo è coinvolto in una serie di efferati delitti, in un contesto dove la verità non è mai certa. Il film, un giallo scritto con buona padronanza della materia e diretto con molta cura tecnica, possiede tutte le carte in regola per dare soddisfazioni agli appassionati del thriller all'italiana e a quelli che in particolare cercano una denuncia verso le disumane prevaricazioni del giornalismo televisivo. L'unico neo sembra essere, almeno sotto il profilo dello spettacolo, l'uso compiaciuto del sangue, da cui il titolo Bugie Rosse, e al tempo stesso alcune cadute nel grottesco. Anche se mantenuto in una opulente Bologna, il racconto lascia intravedere una società assai decadente, causa di delitti e nevrosi per coloro che la popolano. I personaggi sono tipicizzati manicheisticamente. Non pochi particolari appaiono incredibili e spropositati. Ma dalla parte del regista stanno molte cose. La sincerità dell'autore, l'evidente impegno civile, l'offerta di dati precisi e già di per sé soli del tutto convincenti.